Avevano deciso di comprare con i fondi del PNRR un generatore, un carrello, tre trattori di ultima generazione e altri strumenti per la trasformazione dei prodotti agricoli. L'azienda agricola con sede nella provincia di Treviso, con un solido fatturato annuo di circa 4 milioni di euro e 25 dipendenti, non aveva però considerato di divenire oggetto di un controllo approfondito della Guardia di Finanza. Nell'ispezione le fiamme gialle hanno riscontrato un utilizzo improprio di crediti d'imposta per 120 mila euro ottenuti grazie ai fondi del PNRR, fondi utilizzati per compensare altri debiti fiscali e previdenziali con lo Stato. L'attenzione della Guardia di Finanza sulle modalità con cui vengono utilizzati i fondi finanziati dal PNRR è molto alta e i controlli sono pressoché quotidiani. Il controllo, basato su specifici indicatori di rischio, ha rivelato che l'azienda non era in regola con il versamento degli oneri contributivi, nonostante avesse utilizzato i crediti d'imposta per saldare altre pendenze verso lo Stato. Gli amministratori sono stati denunciati per il reato di indebita compensazione e rischiano fino a due anni di reclusione. Tuttavia l'azienda ha prontamente provveduto a restituire al fisco l'intera somma indebitamente ottenuta, gesto che non estingue il reato ma che potrebbe influenzare il procedimento penale in corso. In questo modo la loro posizione sarà certamente valutata favorevolmente dal giudice. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha evidenziato come l'utilizzo improprio dei crediti d'imposta non solo danneggi le casse dello Stato ma distorca anche la concorrenza penalizzando gli operatori economici che rispettano le regole.